Torna a Catania dopo 10 anni il trofeo Sant'Agata sicuramente che focalizzerà per gli amanti dello sport ma non solo, anche per gli appassionati degli eventi che si faranno a Catania. Come saranno organizzati? Noi faremo questa manifestazione il 3 di febbraio alle 15, è una manifestazione dove parteciperanno grossi calibri dell'atletica sia siciliana che italiana. Siamo cercando di organizzare una manifestazione che riporti il trofeo Sant'Agata agli albori degli anni passati, quando si organizzava dove sono venuti Baldini, Targat, Antibo che l'ha vinto un paio di volte, quindi per riportare la grande atletica a Catania. Marella Gennarino, oggi al Comune vengono presentati gli eventi sportivi, però tu ovviamente abbracci una serie di eventi che partiranno, anzi sono già partiti e proseguiranno fino al club della festa di Sant'Agata. Marella, come lo stai vivendo questi momenti? Sì, con molta determinazione ma anche molta fatica perché sono ormai gli ultimi giorni, però felicissima che il trofeo Sant'Agata ritorni dopo due anni e che si ritorna a un po' di normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Il trofeo Sant'Agata è un evento di altissimo livello sportivo, si coniuga la devozione con lo sport e questa è una cosa bellissima per onorare la nostra Santa. Qui accanto a me ho una rappresentante di una di queste discipline sportive che è appunto del tennis umberto di Catania che è una bellissima disciplina. Il tennis viene anche questa disciplina messa in questo trofeo stupendo, quest'anno ci saranno soltanto i doppi e praticamente ci sarà anche un over, un over 60 che può partecipare, si concluderà il 10 febbraio e sicuramente sarà un esploit per il futuro perché questa è la cosa più importante, andare avanti e aumentarlo, farlo anche col pad, anche con altre discipline. Questo è il nostro intento. Questo è solamente l'inizio. Cosa significa questo trofeo Sant'Agata che ritorna prepotentemente a Catania? Ma è una riapertura innanzitutto dopo quello che abbiamo passato di una festa che deve comprendere cultura, deve comprendere sport, deve comprendere tutti quelli che sono gli elementi di una società sana e che si vuole sviluppare. E' un'occasione questa per riportare il turismo anche a Catania sotto forma dello sport. Come sapete noi abbiamo sempre fatto tanti sforzi soprattutto con la tassa di soggiorno per incrementare lo sport, per incrementare quello che sono le attività culturali e Sant'Agata naturalmente la festività di Sant'Agata che porta onore, turismo e tanto tanto lavoro per i nostri concittadini.